ciao amici nel video che vi linko vi ho fatto vedere la mia fissazione per la possibilità di utilizzare gli stessi strumenti di input quindi tastiera e mouse con più device in questo caso pc personale e tablet adesso vi mostro come poter associare la tastiera logitech k33 k 380 a un device in questo caso al mio tablet come vedete la tastiera è già associata lo avete già visto nell'altro video che vi ho mostrato in questo caso però dissociamo la ok così vi faccio vedere come è facile procedere all'associazione di questa k 380 ad un device bluetooth qualsiasi in questo caso vi faccio vedere l'associazione con questo tablet ora voglio associare la tastiera al allo slot 2 come vi ho detto la k 380 a modo di utilizzare tre slot per associare tre diversi dispositivi in questo caso voglio associare allo slot 2 il tablet adesso se vedete io premendo lo slot 2 questo continua a lampeggiare perché sostanzialmente non trova nessun device a cui è associato questo slot quindi posso premere quanto voglio e come vedete non succede nulla nella parte né dall'altra se invece premo lo slot 3 passo il controllo della tastiera al pc e quindi si apre una nuova scheda e mi metto a scrivere vedete che si scrive sto scrivendo ad cavolo lì sul browser dunque tornando all'associazione slot 2 è uno slot libero allo slot 2 voglio associare il mio bel tablet come faccio tengo premuto lo slot 2 fino a quando la lucina non comincia a blinkare poi vado su i dispositivi bluetooth del device da associare e chiedo di cercare i dispositivi disponibili trova la tastiera la seleziono mi viene indicato un codice da inserire quindi 320850 quindi 320850 invio tastiera associata in corrispondenza dello slot 2 quindi dovete slot 2 attivo e vi faccio vedere come andando su sul browser posso andare che ne so su un sito a casa e e tutto diventa facile quindi utilizzo la tastiera come fosse utilizzo il tablet insieme a tastiera e mouse come fosse un pc stesso discorso chiaramente per gli altri slot disponibili quindi slot 1 e 2 se volete associare qualche cosa adesso sono tutti occupati i miei però se volete associare qualche altro device se tenete premuto lo slot a cui associare il nuovo device viene mostrato il codice da inserire lo inserite premete invio come vi ho fatto vedere poco fa e tutto funziona come si deve spero di esservi stato utile al solito se avete dubbi commenti o altro scrivetemeli nei commenti e vedrò di rispondervi appena possibile ciao a tutti